L'azienda è nata un anno e mezzo fa a Macomare, siamo due soci, io e Gavino Guiso, siamo tutti e due di Macomare. Io lavoro da circa 22 anni nel settore, mi sono occupato di varie aziende, mi sono occupato di direzione commerciale per una cooperativa e da un anno e mezzo abbiamo iniziato questa avventura. Ci poniamo a differenza dei classici casifici con prodotti innovativi, due sono qua, due formaggi, uno alla birra con la birra Barley che è una birra artigianale di Maracalagones, pluripremiata e poi l'altro formaggio è con il Cannonau. È la prima volta che in Sardegna il latte incontra la birra e il vino. Oltre ai formaggi abbiamo fatto una linea di creme che arrivano in ristorazione per supportare e innovare alcuni piatti classici. Le creme possono essere utilizzate sia con il pesce che con la carne e possono sostituire un sugo pronto nella pasta e nel riso. L'evento è importante per noi, io ho già partecipato con un'altra azienda qua, però per quanto riguarda noi, essendo un'azienda innovativa, l'impatto è stato sicuramente importante. Grazie per la visione! Grazie a tutti.